Innanzitutto faccio un in bocca al lupo a Paolo, non so se lo sapete ma senza Paolo non staremmo in Parlamento. Paolo è stato il delegato di lista qua a Roma e si è fatto un mazzo incredibile. Io un po' me l'aspettavo il quarto governo Berlusconi, di questo si tratta fondamentalmente, perché quando abbiamo visto i risultati dopo le elezioni era chiaro che avrebbero inciusciato, perché sono la stessa cosa. Il PD e il PDL dopo 19 anni di unione di fatto si sono finalmente sposati alla luce del sole, li abbiamo costretti noi a sposarsi e questo, credetemi, è un grande successo.